Il nome di Alvaro Morata continua ad essere accostato frequentemente alla Juventus. Da ultimo ne ha parlato anche Alfredo Pedullà. Anche Alfredo Pedullà ha sostenuto l'ipotesi di un avvicinamento tra Morata e la Juventus. Morata infatti era stato cercato l'estate scorsa dalla Juventus. Potrebbe esserci anche un incrocio con Moise Keane che a gennaio avrebbe dovuto passare proprio all'Atletico Madrid ma saltò tutto. E Keane in questo momento comunque è in uscita dalla Juventus. Non direzione Atletico Madrid, non più direzione estero anzi probabilmente. Ma in Italia c'erano stati infatti, ricorda Pedullà, per lui anche sondaggi di Bologna e in particolare Fiorentina sempre a gennaio. L'uscita di Keane, considerando anche l'infortunio di Milik che non gli comprometterà la stagione ma tutta la preparazione estiva, sì, oltre all'europeo, potrebbe favorire appunto un ritorno di Morata in bianconero. Morata che all'inizio di questa prossima stagione 24-25 compirà 32 anni da due stagioni all'Atletico Madrid dopo esservi rientrato dopo il prestito biennale costato 20 milioni di euro più stipendio proprio alla Juve. Morata avrebbe dovuto lasciare la Juventus in realtà anche prima, lo ricordiamo, a dicembre-gennaio 2021-2022 in concomitanza con l'arrivo di Vlaovic. Fu il precedente allenatore a convincere Morata a restare, mettendolo però completamente fuori ruolo a fare quasi il terzino sinistro, mentre che Vlaovic si inseriva in quella Juventus. Morata avrebbe dovuto andare al Barcellona, non se ne fece nulla, si chiuse l'esperienza alla Juve senza il riscatto, senza alcun rinnovo di prestito. Morata quindi nel frattempo è tornato all'Atletico Madrid dove ha fatto anche buone prestazioni, ha fatto anche tanti gol, ha giocato, ma in una recente intervista ha tirato l'ennesima sassata contro la sua attuale squadra, contro tutta una serie di situazioni e anche contro gli spagnoli e i tifosi del calcio spagnolo. Morata lamenta il fatto che deve andare via dalla Spagna, dice già l'estate scorsa, 2023 avrei dovuto lasciare l'Atletico Madrid, in Spagna mi fischiano e mi contestano, non capisco come facciano gli spagnoli appassionati di calcio a non tifare per la Spagna, i miei figli non capiscono l'odio contro di me. E poi anche qualche bordata a Simeone, parliamo tanto, spessissimo di tutto, anche di cose della vita, ma ogni estate sembra sempre che io debba essere fuori e poi alla fine rimango, anche perché ho l'illusione di poter vincere con l'Atletico Madrid. Insomma, dichiarazioni quelle di Morata uguali a quelle che ha fatto ogni anno della sua carriera, o quasi. Sempre scontento di dove si trova, vorrebbe sempre andare altrove, dice e non dice, mancando sistematicamente di rispetto a tutte le società che gli pagano un bel po' di milioni di stipendio. Morata, tra l'altro, è assistito benissimo dal punto di vista di procuratori, agenti, intermediari, che lo rendono molto mediatico, oltre a sua moglie e a lui stesso dal punto di vista dei profili social, e quindi questo favorisce anche una certa narrazione da parte dei giornalisti. Infatti, lo stesso Alfredo Bedullà, che però su questo è stato esplicito e chiarissimo, a differenza di altri, fa ben capire che non c'è nessun interesse da parte della Juventus per Morata. È Morata che vuole tornare alla Juve. Quindi, da questo punto di vista, per ora, non c'è nessuna notizia, a parte il fatto che Morata, proprio tramite la forza comunicativa e mediatica che riesce a garantirsi, sta spingendo per tornare alla Juve. Tornerebbe a Torino a piedi e le solite cose. Ma, in questo momento, potrebbe solo venirsi a creare una situazione tale per cui la Juventus potrebbe riaccendere quell'interruttore e dialogare di nuovo con lo spagnolo. Ma, stiamo parlando di ipotesi, stiamo parlando di se, ma, in realtà, di concreto, a parte l'uscita di Ken dalla Juve, ma con destinazione ancora tutta da definire, per ora non c'è assolutamente nulla. Quindi, i tifosi della Juventus, spaventati da un eventuale nuovo ritorno di Morata, il terzo ritorno di Morata, per il momento possono stare molto, molto tranquilli. Quelli che vorrebbero Morata alla Juve, o che non se lo farebbero dispiacere, devono pazientare, perché per il momento di concretezza c'è veramente poco. Nel frattempo, la Juventus sta finalizzando una serie di altre operazioni su tutt'altri fronti, e quindi Douglas Luiz praticamente fatta, Copminers subito dopo, Calafiori appena dopo, Di Lorenzo, nel frattempo che viene ufficializzato anche Di Gregorio, affare già fatto, e poi si sta lavorando per un esterno d'attacco. Certo, la Juventus forse ha bisogno di un altro attaccante, perché Vlaovic resta, si parla ancora di Zirk Zemma, dovrebbe andare definitivamente al Milan, forse solo un'azione di disturbo, quella della Juve di Giuntoli. Poi, appunto, se va via Ken, rimane solo Milik, che però inizia la stagione da infortunato, non potendo quindi cominciare a lavorare bene con Tiago Motta, e poi Caio Giorgi, che è stato ceduto per 7 milioni a titolo definitivo al Cruzeiro, e non ci sono in questo momento, in next gen o in under 19, punte centrali che possono subito salire in prima squadra per fare la riserva di Vlaovic. Quindi, comunque, la casella dell'attaccante centrale per la Juventus è da monitorare, ma per il momento Morata è solo un'ipotesi nella testa di Morata.